Buongiorno a tutti, ben trovati al nostro TG Meridiano. Partiamo con la politica. La Lega raccoglie le firme a Firenze, contestati però in Piazza Gavinana. Vediamo. È una iniziativa regionale, 130 gazebo in tutta la Toscana per l'Italia che riparte. Un'Italia che ancora non è ripartita, un mondo imprenditoriale che vuole ripartire. Ci sono delle proposte nostre in Parlamento, quale la flat tax, contestualmente con questa raccolta di firme contestiamo e critichiamo la sanatoria del governo sui clandestini e un nostro forte no nei confronti delle cartelle di Equitale che tutti i giorni piovono ai cittadini. Quindi è un cambio di passo che questo governo obbligatoriamente deve fare. Questo è quello che ci chiedono gli italiani, questo è quello che ci chiedono i toscani che stanno venendo in massa a firmare i nostri gazebo. Un po' di tensione c'è stata al banchino della Cop di Gavinana. Quando la Lega è arrivata questa mattina hanno trovato il banchino del CPA di Firenze che si trova qui vicino e da almeno quattro mesi ha allestito un banco in questa piazza per la raccolta alimentare, per aiutare soprattutto gli abitanti del quartiere. Il CPA non ha gradito vedere la Lega mettere il suo gazebo e ha cominciato a porgli una serie di domande sul governo, sulla sanità pubblica, sui 49 milioni che la Lega deve ancora restituire. La Lega a quel punto ha chiamato la polizia, il banchino è stato circondato da una squadra della Digos. Non vogliamo impedirgli di raccogliere le firme, hanno spiegato i ragazzi, ma loro qui in questo quartiere non sono graditi. Noi eravamo qua da stamattina alle otto e mezzo, loro si sono presentati alle nove e si sono messi qua con il banchino chiuso e noi siamo stati là e li abbiamo guardati. Loro hanno aspettato che arrivasse il reparto, che arrivasse la Digos e sono stati un'altra ora a parlare perché probabilmente la Digos gli consigliava di spostarsi in un'altra piazza. Non li dovete impedire di raccogliere i firme? Noi siamo qua, noi siamo qua a porre domande, non gli abbiamo impedito di fare niente, tant'è che come vedete c'è tutto il reparto senza il casco, senza manganelli in mano, potete chiedere conferma. Noi siamo venuti qua a porre le domande che vi dicevo prima, a cui vorremmo delle risposte perché se questo è il ceto politico che vuole amministrare e governare questa città, questa regione, questo paese, vorremmo che avessero il coraggio di confrontarsi e rispondere a domande su cui non rispondono perché sono in imbarazzo. Noi siamo qua, non avremmo fatto niente se non quello che stiamo facendo ora anche se non ci fosse stato il reparto. Poi il fatto che loro parlino di sicurezza e si sentano sicuri rinchiusi dentro un acquario è una contraddizione tutta loro. La cronaca spaccio di droga ad Arezzo, il parco del Pionta è sempre a rischio nonostante i blitz delle forze dell'ordine. Il servizio? È stata una settimana calda per quanto riguarda lo spaccio nella zona del Pionta. Martedì scorso le pene severe a 10 dei 14 arrestati nel maxi blitz proprio nella zona del Pionta. Condanne che sono andate dai tre anni e mezzo fino addirittura a quasi sette anni. Ci sono stati però anche in questi giorni episodi di violenza come un'aggressione ad una pattuglia della polizia da parte di un africano originario del Gambia e ancora controlli che hanno evidenziato come nella zona estesa anche all'area di Campo Marte, limitrofa alla stazione, continui lo spaccio. La situazione non è facile, le pene dure hanno tenuto proprio perché ha tenuto il primo comma, ovvero lo spaccio reiterato. Ma nella maggior parte dei casi le piccole quantità non consentono di trattenere gli arrestati dentro il carcere e addirittura spesso neppure di arrestarli. I controlli continuano quotidianamente ma è indubbio che la zona del Pionta di Campo Marte resti ad altissima attenzione. La Sanità, la Società della Salute di Pistoia, lavora per il potenziamento dell'ospedale di San Marcello che ha mostrato il suo modo di poter lavorare proprio durante il Covid. Vediamo. Si va verso il potenziamento dell'ospedale di San Marcello Pistoiese che diventerà un vero e proprio nosocomio al servizio della collettività. non solo per la montagna ma per tutti gli utenti pistoiesi. È quanto prevede un documento della Società della Salute Pistoiese. Sindaco, si parla di potenziare l'ospedale di San Marcello, un po' tutta la sanità della montagna? Sì, si parla di potenziare, se ne parla da tempo. Devo dire che questo documento che abbiamo approvato in seno all'Assemblea della Società della Salute è un ulteriore spunto, un ulteriore stimolo a andare avanti in questa direzione. Devo dire che l'esperienza del Covid ci ha insegnato che l'ospedale di San Marcello è un presidio importante non soltanto per i cittadini della montagna ma anche in logica di sistema. E questo è il grande valore aggiunto che l'Assemblea della SDS, mi sento di dire, ha colto pienamente. La Società della Salute è l'unanimità, quindi tutti i sindaci che la costituiscono e anche l'azienda sanitaria stessa. Abbiamo sottoscritto un documento che ovviamente vuole essere un documento di massimo all'interno del quale poi un tavolo tecnico svilupperà i vari aspetti ma con un principio sacrosanto che anche la montagna non solo ha il diritto di avere ovviamente la sanità sia ospedaliere a territoriale che l'inesessita ma non deve aspettare l'emergenza Covid come è stata per dimostrare che anche nella rete ospedaliera la presenza della struttura di San Marcello è stata determinante per la presa in carico e la guarigione di molti pazienti. Pistoia ospiterà anche quest'anno il Festival dei luoghi medievali italiani. L'appuntamento vedrà la presenza di 16 comuni di diverse regioni. Vediamo. Le date sono già state stabilite il 26 e il 27 settembre come già avvenne l'anno scorso ma con alcune significative novità anche quest'anno Pistoia ospiterà il Festival dei luoghi medievali. 16 comuni di varie regioni italiane si ritroveranno a Pistoia per una grande manifestazione nel centro storico un vero e proprio tuffo nel Medioevo con tanto di squilli di chiarine, rulli di tamburi. Le immagini che vediamo si riferiscono all'edizione 2019 e questa la novità del 2020 anche accampamenti militari allestiti in Piazza Duomo. In città si incontreranno sindaci e delegazioni di realtà storico rievocative di varie regioni italiane. In programma incontri, workshop e corteggi storici. L'obiettivo è fare squadra per una promozione congiunta dei comuni italiani a forte identità medievale quali destinazioni eccellenti di turismo storico rievocativo. Sì, già da due anni ci prepariamo. Sono 16 comuni italiani e diciamo le più belle feste medievali che sono in Italia che si uniscono per portare qui a Pistoia per la prima volta il Medioevo. E noi il 26 e 27 settembre con sabato la prima rinone generale di tutti i comuni. E poi domenica contiamo di fare sulla Piazza Duomo tanti campi militari, tante sfilate di tutti i gruppi storici dei comuni che appartengono, diciamo così, all'entourage del Medievita lì, a questa nostra unione di questi comuni e speriamo che ce la facciamo perché è una scommessa e con Alessandro Isabella ci lavoriamo da due anni. L'anno scorso le regioni italiane coinvolte furono nove. Alla due giorni i Pistoiese parteciparono le amministrazioni di Trento, Incisa, Scappaccino, Ariano Irpino, Gradara, Fermo, Monte Riggioni, Pescia, Serravalle Pistoiese, Prato, San Gimignano, Viterbo, Monte Fiascone, Sutri, Civita di Bagno Regio, Ascoli Piceno, Gubbio, Cairo, Montenotte e Marsala. L'estate di Scandicci si farà più ricca del solito quest'anno. Parte il 13 luglio Open City. Abbiamo scommesso tutto durante la pandemia tenendo fede all'impegno di aprire il bando per gli eventi culturali. L'abbiamo aperto il 24 maggio. Qualcuno ci ha anche detto siete pazzi, non riuscirete mai a fare niente, ma per fortuna oggi possiamo dire che avevamo visto giusto. Cinema, musica, danza, teatro, poesia, circo contemporaneo, video mapping, performance, conferenze, talk show, yoga. Nella difficile estate 2020 Scandicci rilancia con la diciassettesima edizione di Open City dalla 13 luglio al 27 settembre. Abbiamo ricevuto 40 proposte, 40 progetti, ne partiranno 22 per 130 eventi dislocati in tutta la città. Quindi si apre davvero una scena proprio cittadina che va dai parchi, le piazze, ma anche le case private. Torniamo anche nelle aziende agricole e turistiche con un festival jazz e quindi i cittadini potranno tornare anche ad appropriarsi di questi luoghi. I generi sono i più diversi, oltre a delle strutture un po' più tradizionali di teatro, di cinema, eccetera, sono arrivate proposte di macchine itineranti che portano le poesie nelle cassette delle lettere invece che le mascherine, come il cinema tascabile su richiesta nei quartieri. Abbiamo una serie di giovani DJ e artisti visivi che faranno proiezione sulle pareti dei palazzi, quindi abbiamo davvero visto, come dire, la voglia di cercare un nuovo linguaggio. Questa edizione del festival sarà la più ricca di eventi proprio per permettere a più persone possibile di partecipare. Alcuni eventi saranno a pagamento, altri gratuiti. Fondamentale sarà la prenotazione. In maniera tale da contingentare, da permettere al pubblico di sapere bene dove c'è posto, quale possa essere un'alternativa, eccetera. Quindi immaginiamo che nelle 130 serate tutti avranno modo di partecipare, di godere di questa nuova socialità ritrovata in un contesto culturale e artistico. E la formula degli agriturismo potrebbe diventare vincente per il turismo della Versilia. Vediamo. Isolamento nella natura, profumi di fioritura e vita sana, ma a due passi dal mare. Se la formula agriturismo è sempre stata vincente in queste state post emergenza, potrebbe diventare addirittura strategica per il turismo della nostra Versilia. Le strutture che uniscono produzione agricola e servizi turistici hanno due caratteristiche che sembrano ideali per la situazione che stiamo vivendo, spiega Massimo Gai, responsabile di Cia Versilia. È vero che abbiamo il mare, è vero che abbiamo tante strutture ricettive, ma in queste strutture qui si può vivere l'isolamento, si può vivere la pace, si può vivere la tranquillità, sempre a due passi dal mare e sempre riuscendo a dare volano e motore a un'attività che comunque fa presidio del territorio, fa conservazione del paesaggio e dà comunque lustro a tutta quella che è la tradizione sia agricola sia turistica della Versilia. Inizio non facile nel post isolamento anche per le strutture targate Cia, Confederazione Agricoltori Versilia, ma c'è ottimismo. Ripartire è stata dura, racconta Isabella Cavallini di un agriturismo a Camaiore. Quest'estate ovviamente, come tutte le realtà nel mondo del turismo, è stata abbastanza una bella batosta, quello sicuramente, però ecco dalla riapertura, che ovviamente anche per noi è stato più difficile nel momento della riapertura quasi che il lockdown, perché lì ci si è resi conto della situazione, abbiamo deciso di impostarle in questo modo, cercare di offrire alle persone ancora più serenità, ancora più tranquillità per venire qui da noi, quindi ambienti completamente separati, quasi in possibilità di stare contemporaneamente nella stessa stanza con persone che non si conoscono, per cui la ricerca di un posto, appunto, dove si evitano affollamenti, eccetera, in questo caso viene assolutamente trovata. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. L'informazione su Toscana TV torna stasera alle 19.